salve a tutti amici scacchissi bentornati sul canale di matto scacco con questo secondo episodio dedicato al mediogioco come promesso vi porto una partita con arrocchi eterogenei quindi parliamo di mediogioco dinamico dove il tempo dove la mobilità dei pezzi assume un valore fondamentale e dove il materiale viene lanciato come coriandoli spero di fare un video non troppo troppo lungo mi spiace per i video che purtroppo sfiorano o superano a talvolta la mezz'ora però a me piace andare un pochino a fondo quando vi porto qualche partita perché credo che sia anche lo scopo di vedere ed analizzare insieme queste queste partite partite come questa poi sono anche molto complesse anche perché il mediogioco è un tema complesso altrimenti non me l'avreste mai chiesto no specialmente quando due giocatori sono due grandi maestri il bianco victor bologan mentre il nero è il grande maestro cinese ye xin chuan generano perle come questa dove 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 si lanciano i pezzi addosso praticamente sull'arrocco del nero ci mancava solamente il formulario e l'orologio senza perdere altro tempo iniziamo subito questa fantastica partita di gioco d'attacco questo non è nemmeno gioco dinamico questo è veramente gioco d'attacco la partita comincia con e4 c5 difesa siciliana sulla scacchiera cavallo f3 variante aperta d6 d4 c per d4 cavallo per d4 cavallo f6 cavallo c3 fino a qui niente di nuovo cavallo c6 alfiere g5 solitamente alfiere g5 genera tra i sistemi più aggressivi in assoluto denominato mi pare richter hauser e6 donna d2 alfiere e7 arrocco lungo arrocco corto qui già capiamo quali sono le intenzioni di entrambi i giocatori il nero probabilmente sceglierà di andare ad aprire breccia sull'arrocco avversario con le solite classiche manovre a6 b5 ovviamente prima c'è bisogno di una donna c7 per difendere il cavallo che resterebbe sospeso dopo la spinta del pedone b5 oppure semplicemente il nero decide prima di cambiare questo cavallo anche per per spiazzare momentaneamente la donna e poi avanza questi pedoni sul lato di donna l'idea ovviamente di andare a giocare b5 e b4 andando a toccare il cavallo e andando ad avvicinarsi insomma nei meandri dell'arrocco il bianco dal canto suo ha diversi piani a dire il vero molti sono legati con la spinta f4 f5 che vengono spesso combinati con la decisione dell'alfiere che da c4 attacca le case bianche quindi f4 f5 l'idea è di andare ad aprire questa questa diagonale delle case bianche un altro piano che è quello che poi viene utilizzato in partita viene denominato l'attacco inglese che ha questo questo questa struttura diciamo l'idea è che dopo f3 il pedone e4 viene sostenuto appunto da un pedone scarica il cavallo dalla sua difesa e allo stesso tempo questa mossa prepara la spinta e l'avanzata dei pedoni bianchi sul lato dire che andranno a cercare di aprire linee in quel settore della scacchiera inizia quindi una lotta di tempi inizia la gara a chi arriva prima a6 h4 bianco non perde tempo assolutamente cavallo per d4 come abbiamo detto questa era una delle possibilità donna per d4 b5 re b1 solitamente questa è una mossa di di assestamento perché spesso quando il cavallo da c3 viene viene cacciato via con b4 per esempio lascia anche la difesa del pedone a2 e quindi molto spesso è utile giocare questa re b1 che va a difendere il pedone a2 per evitare che la donna entri in a5 con guadagno di tempo alfiere b7 solitamente questa mossa caratterizza l'idea l'idea di andare a giocare d5 opporsi quindi a un come abbiamo detto anche l'altra volta quando quando è presente un attacco sull'ala si cerca di reagire in un settore diverso della scacchiera per creare come una sorta di diversivo gli attacchi laterali sono molto forti quando il quando il centro è chiuso è bloccato o comunque non c'è attività o possibilità di reazione quando veniamo quando siamo noi ad essere attaccati su un'ala la cosa più sensata la cosa più logica la cosa più forte da fare è cercare un'immediata reazione al centro quindi è è quindi perfettamente logico capire perché il nero stia preparando la spinta in d5 dato che il bianco sta manifestando le chiare intenzioni di andare a montare questa questo attacco alla baionetta sul lato di sul lato di re donna torna in d2 donna c7 la donna ovviamente va a occupare una una casa che che nella siciliana è sempre utile la donna da cc da c7 controlla la casa e5 molto spesso il bianco c'è questo questo atticismo questa questa e5 sgombera la colonna per la torre che può andare a ad agire sulla colonna d appoggiando la spinta in d5 e agendo a raggi x sulla donna in d2 e beh occupa comunque una colonna semi aperta che va a portare minacce sul sul punto c2 soprattutto il cavallo anticipa la b4 del del nero giocando ricollocandosi quindi saltando in e2 torre di ac8 cavallo d4 torre fd8 e già il nero diciamo che è pronto per per spingere in d5 alfiere d3 cavallo in e8 g4 alfiere f6 l'alfiere va ad attaccare sicuramente questo cavallo che è in presa è sospeso e controlla la casa e5 dato che il pedone quando verrà spinto in d5 lascerà questa casa per evitare di lasciarla in mano all'avversario la occupa semplicemente la controlla per meglio dire alfiere e3 mossa mossa importante mossa importante perché il l'alfiere si ritira per difendere il cavallo che era attaccato dall'alfiere e allo stesso tempo sgombera la colonna g per permettere questa g5 con guadagno di tempo perché sta attaccando l'alfiere in f6 arriva d5 e probabilmente con ogni probabilità il nero non si avvede di questa mossa bellissima del bianco che è questa fantastica e5 questa mossa è molto forte concettualmente la mossa ha l'intenzione di chiudere momentaneamente il centro di privare di elasticità comunque il centro per avere mano libera sul lato di re come abbiamo detto prima quando il centro è chiuso l'attacco sull'ala è forte questa mossa è possibile solo grazie a dei tatticismi che si possono vedere nelle varianti di per esempio alfiere e7 bene allora g5 ho guadagnato tempo perché l'alfiere si è ritirato mi ha lasciato il tempo di giocare g5 e sto espandendomi da notare che non si può prendere il pedone in e5 perché si perde la donna dopo alfiere per f4 la donna non ha nessuna casa di fuga se non questa presa in d4 che purtroppo perde dopo alfiere per h7 re per h7 e ci ciucciamo la donna in d4 che è buona buona altra possibilità a disposizione del nero donna per per e5 subito porterebbe alla stessa linea per inversione di mosse perché dopo donna per e5 io attacco l'alfiere l'alfiere si ritira alfiere f4 e come vedete siamo nella stessa identica posizione dove la donna non ha case dove è obbligata a prendere questo cavallo e nuovamente salta l'unica alternativa che resta quindi in questa posizione per il nero è quella di andare a catturare questo pedone con l'alfiere ora il bianco gioca f4 porta un nuovo pedone all'attacco guadagnando un tempo sul sull'alfiere l'alfiere si ritira in d6 il bianco gioca g5 e il nero come detto reagisce come doveva reagire gioca e5 f per e5 alfiere per e5 e arriva in questa posizione un'altra mossa molto originale molto forte che è una mossa una mossa da ricordare da prendere in considerazione arriva g6 che è molto più forte di h5 notate che il piano potrebbe essere per il bianco la logica suggerisce che potrebbe essere quello di spingere in h5 e solo dopo aver creato questa coppia di pedoni in quinta andare a giocare per una g6 la mossa g6 immediata ha lo stesso scopo è quello di aprire linee ma lo fa con un tempo in più perché adesso g6 pone subito il nero di fronte a una scelta prendo con il pedone h prendo con il pedone f con nessuno dei due in entrambi i casi arriverebbe h5 presa in g6 e si aprirebbe si spalancherebbe la colonna h e anche la colonna g eventualmente per le torri che con l'aiuto di questi due birbantelli qui è una posizione diciamo quasi già da problema no dove il bianco muove vince il il nero quindi decide di andare a a portare un pezzo che non sta giocando fondamentalmente in difesa quindi cerca un attimo di riattivare la situazione con cavallo d6 che va a difendere momentaneamente questo pedone in f7 il bianco non perde tempo e approfitta subito per far guadagnare alla sua alfiere campo chiaro in d3 ancora più attività quindi sceglie di giocare g per f7 mossa che come detto dona all'alfiere d3 sicuramente molta attività spalanca la colonna g che potrà sempre essere utilizzata per portare minacce dirette al re avversario e quindi la posizione inizia a prendere comunque una brutta piega da notare che le minacce le idee tattiche del bianco anche dando del materiale perché no lo hanno portato ad un vantaggio di tempi di sviluppo che è clamoroso il nero è rimasto ad a6 b5 che il suo attacco ancora non è non è non è partito mentre il bianco si può dire quasi che sia arrivato donna per f7 torre h f1 il bianco continua continua a guadagnare tempi attaccando i pezzi avversari e di fatto migliora la posizione dei propri pezzi donna d7 questa è una imprecisione perché l'alfiere in e5 resta momentaneamente sospeso dettaglio che il bianco sfrutta per poter permettere al proprio cavallo di andare in g5 con guadagno di tempo sull'alfiere cavallo f3 alfiere f6 cavallo g5 chiaro è che non si può catturare il cavallo andare a prendere questo cavallo in g5 non porterebbe altro che ha forti dolori di panza perché dopo h per g5 si sta minacciando di andare con la torre in h1 che insieme all'azione dell'alfiere va a premere contro il pedone h7 e non è possibile andare a spingere questo pedone perché ovviamente il pedone g5 fiscalizza un po il controllo su questa casa h6 quindi c'è una forte pressione è ovvio che se il il nero dopo torre h1 andasse a difendere questo questo pedone h7 con magari una g6 si sta avrendo una fortissima debolezza sulle case scure e quindi l'alfiere da d4 andrebbe ad occupare questa diagonale qui e comincerebbero a nascere i temi di sacrificio in g6 perché dopo che il pedone ricattura la torre andrebbe ad entrare in h8 con conseguenze sicuramente fatali torniamo indietro la partita ovviamente non è andata così ma in questa posizione il nero decide di giocare cavallo c4 mossa che comunque è una minaccia diretta sta attaccando la donna in d2 sta premendo sulle fierine 3 il pezzo sicuramente fa qualcosa in più in c4 che in d6 il bianco prende in h7 con scacco re h8 donna e2 donna e8 andando un pochino a premere su questa colonna sfruttando l'inchiudatura no e anche la pressione del cavallo combinato con la donna sulla casa e3 quindi questo alfiere praticamente al momento ha qualche problema ma tutto ciò era stato previsto dal bianco che ancora una volta trova una risorsa veramente fantastica in questa posizione l'analisi è impressionantemente precisa valutando che l'alfiere in f6 è l'unico difensore dell'arrocco del nero il bianco ha pensato bene di sacrificare la qualità quindi sa che c'è pia della torre il bianco gioca questa mossa che è una cannonata torre per f6 g per f6 e adesso arriva veramente la ciliegina sulla torta che è alfiere d4 pia della torre pia della donna ma attenzione perché dopo alfiere per f6 è scacco matto quindi è comprensibile che il nero scelga di giocare torre c6 per andare proprio a difendere questa questo pedone f6 che in questo momento rende possibile ovviamente catturare la donna motivo per il quale il bianco decide di spostarla in f2 continuando a premere su f6 quindi alimentando ancora la minaccia di matto donna f8 ovviamente non si vede altro alfiere d3 questa è una delle ritirate quando stiamo attaccando sono tra le cose più complicate da 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 trovare no da da fare invece questa manovra veramente è molto 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 carina molto forte e molto logica soprattutto l'alfiere dh7 ovviamente che sta a fare lì non potrà certo aspettare che succedano le cose o che che venga catturato l'alfiere torna in una posizione molto più funzionale dove controlla comunque a distanza le case del re preparando comunque l'accesso della donna in f5 con effetti realmente devastanti motivo per il quale il nero decide di giocare torre d7 che va a controllare momentaneamente gli ingressi in settima in ogni caso il bianco gioca donna f5 perché sicuramente la donna ha una posizione molto più attiva da essendosi praticamente infiltrata nel campo avversario guadagnando un tempo su questa torre in d7 il nero quindi deve spostare la propria torre e lo farà in e7 e a questo punto c'è ancora un'altra mossa che che praticamente fa collassare la posizione fermiamoci in secondo quanti difensori abbiamo sul pedone f6 che praticamente è l'unico ostacolo tra i nostri milioni di pezzi e questo re è rimasto da solo il nero conta sul sulla donna f8 e la torre in c6 sono gli unici due pezzi che stanno difendendo questo pedone il bianco con quanti pezzi sta attaccando questo pedone con l'alfiere con la donna quindi due pari c'è bisogno di un terzo pezzo chi potrebbe essere esatto cavallo in h7 ovviamente è molto più forte cavallo h7 che non torre f1 semplicemente perché il cavallo mentre sta attaccando f6 sta anche attaccando la donna quindi non da modo di aumentare i controlli su f6 la torre da f1 avrebbe semplicemente aumentata la pressione su f6 e questo avrebbe permesso magari di aggiungere un nuovo pezzo difensore alla difesa di f6 alfiere c8 nella speranza che il bianco accetti il cambio delle donne cosa che ovviamente non farà né adesso né mai anche perché questa mossa a cavallo g5 oltre ad attaccare la donna oltre ad attaccare il punto f6 sgombera anche la quinta che permette l'ingresso in h5 della donna con minacce dirette al re avversario appunto donna h5 donna f7 ormai la partita è conclusa perché dopo alfiere g6 la donna non ha praticamente ritirate possibili dato che il bianco sta minacciando e combinando le minacce alla donna avversaria con quelle di matto al re per esempio se donna in g7 allora arriverebbe semplicemente cavallo per f6 scacco di donna unica mossa donna h7 ma a questo punto cavallo nuovamente per h7 dando una scoperta di alfiere e questa posizione qui è una è un disastro è praticamente un disastro perdere una donna pulita il nero senza sicuramente alcun compenso e si prenderà matto in pochissime mosse ragazzi con questo video io vorrei chiudere questa questo piccolo questa piccola rassegna sul medio gioco è ovvio ed è chiaro che rassegna incompleta perché comunque il tema è così difficile mi avete dato una bella gatta da pelare ed è così lungo ed è così esteso e ci sono talmente tante possibilità talmente tanti tipo di medio giochi che andarli a vedere tutti sarebbe veramente una cosa impossibile ho preferito dividerli in questi due gruppi anche per dare a voi modo di di organizzare mentalmente no come procedere nei vari tipi di medio gioco che io come detto li divido mentalmente in questi due tipi un medio gioco più posizionale più strategico dove la manovrina dove il pedoncino dove la casella dove eccetera eccetera hanno maggiore importanza quindi generalmente le valutazioni di carattere generale assumono una un'importanza maggiore e invece questi questo tipo di metodo giochi dove l'aspetto dinamico il tempo l'attacco e il calcolo poi la parte più noiosa il calcolo delle varianti assumono un valore sicuramente molto più significativo vabbè detto questo io vi saluto vi ringrazio per la visione se il video vi è piaciuto mettete pure like commentate che fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti se non siete ancora iscritti al canale già sapete che cosa dovete fare iscrivetevi e cliccate sulla campanellina così che youtube possa notificarvi i nuovi contenuti di mattoscacco ci vediamo al prossimo video ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao